3 kg di droga nascosti in un aggrottato di modica bassa, arrestato un modicano incensurato dopo una vasta operazione dei carabinieri, cominciata alle luci dell'alba con il supporto delle unità cinofile. La procura generale di Catania non si appellerà contro Franco Susino, l'ex primo cittadino di Scicchile, così prosciolto da ogni accusa a suo carico. Il suo primo commento è stato un sogno che si avvera. Da ieri pomeriggio a Raguse è scomparso Domenico Caggeggi, l'uomo doveva arrecarsi dal meccanico ma di lui si sono perse le tracce, l'uomo era in regime di sorveglianza speciale, preoccupati i familiari. Il 29 settembre prenderà il via la 43esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, un'occasione che fungerà da vetrina per l'agricoltura e la zootecnia del territorio, la prima dopo l'accorpamento delle camere. Si svolge questa sera la 28esima edizione del Memorial Peppe Greco, intanto ieri si è svolta la premiazione del premio Candido Cannavò destinato a Bruno D'Alessio, patrono della corsa podistica Matrice Configno. Ben trovati con l'informazione di TG 74, apriamo oggi il nostro telegiornale con un'importante operazione dei carabinieri, 3 kg di droga nascosti in un aggrottato di modica bassa, arrestato un modicano incensurato dopo una vasta operazione dei carabinieri, cominciata alle luci dell'alba con il supporto delle unità cinofile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di modica in collaborazione con il nucleo cinofili di Nicolosi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un muratore incensurato modicano classe 1969, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei militari dell'arma si è svolta alle primissime luci dell'alba nella zona di modica bassa. I carabinieri, a seguito di accurate e costante attività informativa sul territorio, avevano notato strani movimenti nelle vicinanze dell'abitazione del muratore modicano. E questa mattina è scattato il blitz che ha condotto al rinvenimento grazie al fiuto dell'unità cinofila dell'arma Indic di 3 kg di hashish, tutta suddivisa in panetti e ben occultata all'interno di un intercapedine, nonché all'interno di un termos per il trasporto di acqua. La droga era suddivisa in pacchetti che avevano le sembianze di confezioni di cioccolato modicano. Le professionalità dei carabinieri e le capacità del vivace pastore tedesco hanno condotto al corposo rinvenimento che indubbiamente era rivolto al vivace mercato modicano e non solo. Lo stupefacente reimmesso sul mercato avrebbe fruttato circa 30 mila euro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito su disposizione del PM di turno della procura di Ragusa, il dottor Riccio, è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa. L'attività preventiva dell'arma, che ha condotto in questo caso ad un cospicuo rinvenimento, continuerà incessante con diversi servizi di pattuglia per assicurare ai cittadini costante rassicurazione sociale. Indubbiamente il rinvenimento di circa 3 kg di hashish non terminerà la nostra attività di prevenzione, la nostra attività investigativa che ci dovrà condurre necessariamente a comprendere quali saranno i canali eventuali di spaccio cui questo stupefacente era destinato, nonché gli eventuali canali di approvvigionamento ed altri soggetti che evidentemente collaboravano con il soggetto che abbiamo tratto in arresto stamattina. Non è il primo caso in questo senso che magari un gruppo di soggetti più organizzati possa sfruttare un soggetto incensurato, magari meno sottoponibile ai controlli da parte delle forze di polizia per tenere un quantitativo così ingente di stupefacente. Che forze avete messo in campo e dove avete trovato la droga? Questa mattina abbiamo operato dalle 4.30 in poi con circa 10 militari, con l'unità cinofila dell'arma dei carabinieri, il pastore tedesco Indic e abbiamo operato nella zona di Modica Bassa. I carabinieri della compagnia di Ragusa a seguito dei controlli delle perquisizioni effettuate a Santa Croce hanno arrestato Emilio Cuffaro di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trovato in possesso di quasi 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivise stecche occultate in una cassa acustica all'interno della sua camera da letto. Oltre allo stupefacente è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della droga. Dopo le formalità di rito, Cuffaro è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari. I militari hanno anche eseguito perquisizioni in abitazioni di soggetti già a loro noti e hanno eseguito perquisizioni anche personali e veicolari, a seguito delle quali sono state rinvenute in borse, intercapedine e cofani di autovettura 13 dosi di sostanza stupefacente di vario tipo e 6 soggetti sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori. E la Procura Generale di Catania non si appellerà nei confronti dell'ex sindaco Franco Susino. Per l'ex primo cittadino si chiude dunque un capitolo doloroso. Susino infatti è stato definitivamente prosciolto da ogni accusa e non dovrà presentarsi all'appello. La Procura Generale di Catania non si appellerà nei confronti dell'ex sindaco di Scicli, Franco Susino. La notizia è stata diffusa ieri ed è stata confermata dal diretto interessato e dal legale dell'ex primo cittadino. L'avvocato Cesare Borrometi che ha seguito Susino durante tutto il processo ECO, che ha visto in totale 11 imputati chiamati a rispondere del reato di associazione a delinquere, di stampo mafioso, estorsione, truffa, furte e violenza privata, gravata dal metodo mafioso. Tra gli imputati, come è noto anche il sindaco di Scicli, raggiunto da avviso di garanzia nel mese di marzo del 2015, per lui l'accusa era di concorso esterno in associazione mafiosa. Sin dall'8 maggio 2015, data di avvio del processo ECO, i legali di Susino hanno cercato di dimostrare l'esternità del suo assistito rispetto ad alcune vicende riguardo l'influenza esercitata dai componenti dell'associazione, quasi tutti operanti nella ditta incaricata della raccolta dei rifiuti in città, nei confronti degli amministratori locali. La sentenza del primo grado, emessa dal Tribunale di Ragusa l'11 luglio 2016, assolse Susino con formula pieno ed escluse l'associazione mafiosa per gli altri imputati. Quelli furono momenti di grande commozione per Susino che, quando apprese la notizia dell'assoluzione, scoppiò in un pianto liberatorio. A quel punto per l'ex sindaco di Scicli era vinta la battaglia ma non la guerra, almeno fino alle ultime notizie di ieri. Raggiunto telefonicamente, Susino ci ha detto di aver ricevuto la notizia direttamente dai suoi due legali. Al momento ha detto «So solo dire che per me è un sogno che si avvera». Susino è quindi definitivamente prosciorto da ogni accusa. Per lui si chiude un capitolo vissuto con grande sofferenza. Nella giornata di domani si terrà una conferenza stampa alle ore 18 presso la Casa delle Culture indetta da quante hanno ricorso contro lo scioglimento per mafia del comune di Scicli, finalizzata a fare punto sulla situazione ed analizzare le ultime notizie relative alla sentenza del Consiglio di Stato che ha legittimato lo scioglimento per mafia dell'ente e la rinuncia all'appello nei confronti di Susino. L'appello per il processo Eco quindi ci sarà, ma tra gli imputati non ci sarà più l'ex sindaco di Scicli, Franco Susino. Da ieri pomeriggio a Raguse è scomparso Domenico Caggeggi. L'uomo doveva recarsi dal meccanico ma di lui si sono perse le tracce. L'uomo era in regime di sorveglianza speciale preoccupati i familiari. Domenico Caggeggi di 70 anni è scomparso da Raguse nel pomeriggio di ieri e da quel momento non si hanno più notizie. L'uomo è uscito dalla sua abitazione di Via Dante alle ore 17 di ieri per recarsi dal meccanico in Viestesicola per ritirare la sua bici elettrica, ma l'officina non sarebbe mai arrivato. Preoccupati i familiari dell'uomo che hanno già sporto formale denuncia presso gli uffici della questura di Ragusa. Dal mese di agosto l'uomo si trova sotto regime di sorveglianza speciale per il reato di usura dopo aver ottenuto la scarcerazione a giugno. Domenico Caggeggi soffrirebbe di demenza senile, per questo la famiglia è molto preoccupata. Al momento della scomparsa indossava una polo blu scura, dei blue jeans e delle scarpe aperte. Il manager dell'ASP7, Salvatore Luso Ficarra, ha conferito l'incarico di sostituzione del direttore dell'unità complessa di pediatria dell'ospedale maggiore di Modica al dottor Carlo Vitali, dirigente medico della struttura. Il reparto da tempo vive una grave carenza di personale. Alla nomina temporanea dovrebbe seguire anche l'assegnazione di nuovo personale. Come promesso durante la visita di lunedì scorso all'ospedale maggiore di Modica, il nuovo commissario dell'ASP7, Salvatore Luso Ficarra, ha già nominato il nuovo primario temporaneo per il reparto di pediatria Modica, che da mesi vive una situazione ai limiti del sostenibile. I tre dirigenti medici rimasti devono infatti ruotare su turnazioni che prevedono anche tre turni consecutivi, durante i quali reggono il reparto senza aiuto, gestendo le emergenze. I bambini malati in corsia, già in questi giorni tantissimi per i primi virus di stagione, e le visite in ostetricia insieme anche ai parti. Una situazione ai limiti e per cui si rischia il collasso. Tuttavia, nella certezza che il reparto di pediatria Modica non può e non deve chiudere, il commissario Ficarra ha conferito quindi l'incarico di sostituzione del direttore dell'unità complessa di pediatria dell'ospedale maggiore di Modica al dottor Carlo Vitali, dirigente medico, presso la stessa struttura. L'incarico decorre dal 16 settembre e per sei mesi tuttavia potrà cessare, anche prima della scadenza fissata per il 15 marzo del prossimo anno, qualora la procedura selettiva per il conferimento del nuovo incarico di direttore di struttura complessa dovesse concludersi prima del suddetto termine con la nomina del vincitore. Questo in attesa, sempre come promesso, di nuove forze con l'assegnazione di almeno due medici pediatri in reparto. Anche in questo caso la sostituzione si è resa necessaria, ha dichiarato il dottor Ficarra, a seguito dell'assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento del dottor Ferdinando Zocco per scongiurare soluzioni di continuità nella gestione e per garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute, il funzionamento dei servizi propri della struttura aziendale. Un altro tassello che si aggiunge nell'organizzazione del presidio ospedaliero di Modica e soprattutto perché questa unità operativa continua Ficarra, come le altre garantiscono continuità nell'assistenza a tutti i cittadini e a maggior ragione ai piccoli pazienti che sono i più vulnerabili. Il comune di Isfi che è stato ammesso al finanziamento di un fondo nazionale per il proseguo del progetto SPRAR, Casa della Misericordia per il triennio 2018-2020, un progetto secondo cui l'ente spicese ospita richiedenti asilo nell'ambito dell'assistenza sanitaria a donne sole o comprole. L'accoglienza e il sostegno umanitario sono oggi delle tematiche molto discusse in relazione agli eventi che contrassegnano la storia di tutti i giorni a livello nazionale e locale. Il comune di Isfi che in merito a questo è stato ammesso al finanziamento di un fondo nazionale in quanto è titolare del progetto SPRAR. Con SPRAR si intende il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, un servizio del Ministero dell'Interno che gestisce i progetti di accoglienza, di assistenza e di integrazione dei richiedenti asilo a livello locale. Ad Ispi che infatti questo progetto denominato Casa della Misericordia costa nell'ospitare 17 richiedenti titolari di protezione internazionale ed umanitaria, quali donne sole o confine, figli nella struttura di Corso Umberto e rientra nella categoria assistenza sanitaria specialistiche o prolungata di donne sole o comprole. Adesso, come riportato dalla circolare del Ministero dell'Interno, che tratta delle procedure di prosecuzione del progetto per il triennio 2018-2020, sono stati indicati gli enti che possono presentare l'istanza di prosecuzione ed ottenere fondi e tra questi figura il comune di Ispica. La giunta espicese con la delibera numero 116 ha voluto così autorizzare il responsabile del settore, servizio alla persona, a mettere in atto le procedure per presentare l'istanza per la prosecuzione dello Sprar anche per il prossimo triennio. Il piano finanziario preventivo si aggira intorno ai 380 mila euro, di cui quasi 20 mila sono un cofinanziamento messo a disposizione dell'ente attuatore. Nel caso specifico questo rimarrà la società cooperativa sociale Ollus Integro Orienta, la quale dovrà proseguire ad accogliere le persone prese in carico fino alla chiusura delle selezioni e delle verifiche delle stanze, che potranno essere presentate fino al 30 settembre. La consigliera comunale ragusana di Insieme, Elisa Marino, punta il dito sullo stato di abbandone e di degrado, che insiste nella piazzetta di fronte alla stazione. Un luogo che non sarebbe un bel biglietto da visita per chi appunto visita la città. Un'opera rimasta nel dimenticatoio, un cantiere all'aperto rispetto a cui non si capisce bene perché ne sia stato ancora avviato il definitivo completamento. Il palleggiamento di responsabilità tra le parti interessate è ormai insostenibile. I ragusani chiedono la sistemazione del sito. Sono le parole della consigliera comunale del gruppo Insieme, Elisa Marino, che torna a battere sul tasso dei lavori rimasti in sospeso dalla piazza antistante il parcheggio di piazza stazione, proprio di fronte al complesso ferroviario. Questa struttura ferma è rimasta così da un paio di anni, forse anche più da quando il parcheggio sotterraneo è stato consegnato per l'apertura e il funzionamento. La piazzetta antistante la stazione ferroviaria, che un tempo era un punto di ritrovo per i residenti della zona, è completamente inagibile. Il cantiere è chiuso da tempo immemorabile, tutto è rimasto desolatamente in sospeso. Nessuno si è mai dato da fare per cercare di risolvere una volta per tutte questa situazione incresciosa. La consigliera torna quindi a sollecitare l'amministrazione comunale a trovare una via di sbocco da questa fase di stallo. Tra l'altro il sito è anche diventato ricettacolo di sporcizia, scrive Elisa Marino, per non parlare delle erbacce che sono cresciute all'interno, uno stato di desolazione che non fa certo onore all'intera città di Ragusa. Il 29 settembre prenderà il via la 43esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, un'occasione che fungerà da vetrina per l'agricoltura e la zootecnia del territorio, la prima dopo l'accorpamento delle Camere del Sud-Est. La FAM, Fiera Agroalimentare Mediterranea, giunge alla sua 43esima edizione e nell'occasione fa leva sul futuro per avere delle prospettive più grandi. Di base si avrà sempre un sistema uguale, ormai consolidato dall'esperienza dei precedenti anni, ma la novità sarà che questa costituirà la prima edizione della Fiera della Supercamera di Commercio, che si è costituita dall'accorpamento delle Camere di Ragusa, Siracusa e Catania. La Fiera vuole essere, come lo è stato in precedenza, una vetrina commerciale, uno strumento di promozione per valorizzare agricoltura e zootecnia e per far conoscere attività che vogliono migliorare la struttura e i servizi a supporto delle imprese, per far sì che queste siano competitive in Italia e all'estero. Un grande appuntamento per l'area Mediterranea. In ben 25.000 m2 di spazio saranno ospitate 55 aziende della meccanizzazione, al quale andrà aggiunto uno spazio di esposizione all'aperto di ben 6.500 m2, con 56 aziende agroalimentari, 8 dell'utensileria, 10 florovivaistiche e 20 aziende dedicate all'attività e al servizio dell'agricoltura e della zootecnia. Saranno presenti delle aziende zootecniche con capi di bestiame, circa 270 appartenenti alle diverse razze bovine, ma anche quini ed asini. L'intento, ha sottolineato Pietro Agen, nuovo presidente della Camera di Commercio del Sud-Est, è quello di unire e non di dividere e di contribuire alla crescita di questa realtà portando nuovi operatori, nuovi servizi e nuove strutture. Per Agen questo lembo di Sicilia è unico per le sue caratteristiche e bisogna solo imparare a venderlo, è la FAM e la vetrina ideale del Sud-Est. Ricco il calendario di eventi ed attività collaterali che arricchiranno l'evento, quali convegni, seminari, attività formative rivolte agli studenti, ma anche mostre, concorsi e degustazioni. Inoltre gli eventi principali verranno trasmessi in diretta e in streaming e sono anche state organizzate delle navette per il raggiungimento della fiera. In termini di presenze si è registrata una crescita del 30%. Il tutto dunque preannuncia la riuscita di questo evento, che avrà inizio la mattina del 29 settembre. Si svolge questa sera la ventottesima edizione del Memore al Peppe Greco. Intanto ieri si svolta la consueta premazione del premio Candido Cannavò. Quest'anno destinato a Bruno D'Alessio, storico e famoso patron della matrice Configno, corsa podistica internazionale. Durante la suggestiva cerimonia anche un emozionante filmato sua matrice. Il servizio. Poche ore Scicli ritornerà ad ospitare per la ventottesima volta il Memore al Peppe Greco. Come sempre si preannuncia un evento suggestivo e importante grazie alla presenza di atleti di caratura internazionale. Ancora una volta Sport e Barocco si sposeranno per regalare agli spettatori momenti magici ed emozionanti. Il patron Gianni Voi aveva perfino pensato di smettere con il Peppe Greco ma la città non poteva perdere questo patrimonio così quest'anno forte è stata la presenza dell'amministrazione che ha supportato l'organizzazione. Il sostegno è arrivato anche dal ministro allo sport che patrocina la ventottesima edizione di questo Memore al Peppe Greco. Dopo la presentazione istituzionale alla stampa ieri si è svolta la cerimonia di assegnazione del premio Candido Cannavò che quest'anno è stato assegnato a Bruno D'Alessio storico e famoso patron dell'amatrice Configno. Corsa apodistica internazionale sugli 8 chilometri e mezzo che separano il comune oggi devastato dal terremoto da quella piccola frazione simbolo del fondo delle gazzelle africane dell'atletica. Momenti emozionanti e di toccante solidarietà quando durante la premiazione è stato anche proiettato un filmato su Amatrice. Tutto pronto quindi per la ventottesima edizione che si preannuncia già di grandi emozioni. Ultime ore prima del grande concerto di Antonello Venditti che si terrà stasera alle 21 in piazza Libertà a Ragusa, un concerto amplaged senza amplificazione ma solo in acustica che si preannuncia già un successo dato l'entità dei biglietti venduti. E' corso infatti per gli ultimi ticket disponibili nei rivenditori commerciali autorizzati nelle diverse città iblee. Con questo concerto e con quello del 25 a Palermo Venditti concluderà il suo tour estivo. E alla sessantesima edizione dello Zecchino d'Oro parteciperà il ragusano Alessandro Gibilisco con la canzone Mediterraneamente, soddisfatta la città di Ragusa che vedrà il piccolo di soli dieci anni esibirsi tra i solisti. Alessandro Gibilisco sarà uno dei concorrenti in gara per la sessantesima edizione dello Zecchino d'Oro. Il bambino ragusano di soli dieci anni si esibirà con la canzone Mediterraneamente. La notizia è stata resa nota da Carlo Andoni dell'ufficio stampa dell'Antoniano di Bologna che ha infatti comunicato che tra i solisti dell'edizione 2017 della trasmissione televisiva di Rai 1 ci sarà appunto il piccolo Alessandro. Il piccolo frequenta la quinta classe della scuola elementare Mariele Ventre, gioca a basket ed è anche un bravo batterista. Lo Zecchino d'Oro verrà trasmesso dall'Antoniano di Bologna tutte le domeniche dal 19 novembre al 10 dicembre. Soddisfatta l'intera città di Ragusa, contrassegnata da questi artisti di ogni età, che partecipando a competizioni nazionali ed internazionali riescono a mettersi in evidenza dimostrando le proprie capacità nei diversi settori del mondo dello spettacolo. Buona fortuna dunque ad Alessandro. Bene, questo era l'ultimo servizio, il nostro telegiornale termina qui. Io vi ricordo che come sempre potete seguire la nostra informazione sul sito www.canale74.it. Grazie per l'attenzione, arrivederci.